Perché la Domenica del Ringraziamento? Veramente, qualcuno pensò che sì, ma hanno voluto copiare gli americani che c'è il giorno del ringraziamento. È vero che nel 1621 c'è stata la prima festa del ringraziamento in America. È vero che era passato un anno terribile dove metà della colonia era morta per la fame, per la malattia, e quando invece con l'aiuto con gli indiani sono riusciti a piantare il Grand Turk, eccetera, e poi a sopravvivere fino all'autunno, hanno fatto una grandissima raccolta e hanno invitato questi indiani che li avevano salvato la vita, praticamente, per poi festeggiare e ringraziare Dio. Tutto il tema non era quanto siamo stati bravi, ma era per ringraziare Dio. Poi non si è fatto più, non si è fatto più questa festa. Fino a 1863, quando Abramo Lincoln, in mezzo alla guerra civile, un paese distrutto, un momento tragico nella storia, il presidente Lincoln ha chiamato tutta la nazione a prendere un giorno per ringraziare Dio. Non perché tutto andava così bene, tutto andava male, però fiducioso nel futuro ha detto fermiamoci e ringraziamo Dio. Ma il primo, la prima festa di ringraziamento, sapete quando è stato? Da quello che ho trovato io nella storia? Noè, dopo il diluvio, dopo che Dio era stato così grande di proteggerli in quel cateclismo che ha ucciso tutta la popolazione della terra, tranne la sua famiglia, lui, uscendo dall'arca, ha fatto dei sacrifici di ringraziamento. E così comprendiamo anche che il concetto del ringraziamento è un concetto di sacrifici. Non è che diciamo, sì, grazie Dio, ma ringraziamo Dio con dei sacrifici, con le cose che noi facciamo per Lui. Mosè, in Levitico 22, ha parlato di un sacrificio di ringraziamento, un sacrificio di ringraziamento. Davide, nel Salmo 50, parla di questo sacrificio. Vorrei leggere Salmo 50, versetto 14, dove dice come sacrificio offri a Dio il ringraziamento e mantieni le promesse fatte al Signore. Poi invocami nel giorno della sventura, io ti salverò e tu mi glorificherai. Quindi vediamo Davide che parla del ringraziamento come un atto di sacrificio per ringraziare Dio per quello che lui ha fatto. E Dio dice, se fate così, vedrete più avanti, quando avrete bisogno, ci sarò io per aiutarvi. Anche Geremia, in capitolo 30, parla di un sacrificio di ringraziamento, ringraziando Dio per la liberazione dalla schiavitù. Ma quello che volevo concentrare nel nostro tempo stamattina era sull'Apostolo Paolo. Quest'uomo che ha passato un gran parte della sua vita in carcere, non perché aveva rapinato una banca, ma perché aveva predicato un vergello. Infatti noi abbiamo la metà del nostro Nuovo Testamento scritto da Paolo e molte di queste lettere sono state scritte proprio mentre Paolo stava in carcere. Eppure un tema costante nelle lettere di Paolo è il ringraziamento di Dio. Così io vorrei stamattina avere una cosa un po' personale. Io personalmente vorrei ringraziare Dio con l'Apostolo Paolo e spero anche voi che potrete ringraziare Dio insieme a me. In Romani 1,8 Paolo dice Prima di tutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo riguardo a tutti voi perché la vostra fede è divulgata in tutto il mondo. Preghiamo. Padre, chiediamo in questi momenti che il tuo nome possa essere glorificato, che possiamo avere veramente un cuore ripieno per il ringraziamento per quello che tu hai fatto nella nostra vita, per quello che tu hai fatto e quello che tu prometti di fare nel futuro, per la tua gloria. Nel nome di Gesù. Amen. Io ringrazio Dio, dice Paolo. Vedremo in questo studio quante volte il ringraziamento di Paolo a Dio è proprio a motivo dei credenti, dei fratelli. E devo dire che anche per me è un grandissimo motivo di ringraziamento quando posso guardare i vostri volti ricordandomi di tanti di voi che conoscevo anche prima della conversione di ringraziare Dio per quello che Lui sta facendo in ognuno di voi. Prima, questo ringraziamento viene dato per mezzo di Gesù Cristo. Sappiamo che Gesù è il nostro unico Mediatore e se vogliamo ringraziare Dio dobbiamo arrivare a Dio tramite Gesù Cristo, il nostro Mediatore, colui che è morto per noi, che ha dato la sua vita per noi, che ci ha dato la possibilità di avvicinarci a Dio in preghiera. Quindi ringraziamo Dio tramite Gesù Cristo, prima di tutto, ricordandoci che la salvezza che noi godiamo, che è il nostro motivo per ringraziare Dio, è solamente un dono di Dio. Non c'è nessuno che potrà mai dire sono stato bravo io, l'ho meritato io, mi sono impegnato io. No, la salvezza è per la grazia di Dio. Quindi questo significa che tutti noi che conosciamo Gesù siamo tutti sullo stesso livello. Non esiste un credente di prima classe, di seconda classe, siamo tutti uguali, siamo tutti salvati per la grazia di Dio. Poi dice per tutti voi, per tutti voi. Lì c'era un impegno nella chiesa di Roma, sta scrivendo a Roma, da parte di tanti credenti, molti dei quali sarebbero eventualmente morti martiri. ma tutti quanti impegnati. Non c'era chi arrivava la domenica per farsi vedere e poi dopo non si sedeva più per una settimana o non si sedeva più. Era una comunità che viveva la vita di Gesù Cristo insieme. Durante la settimana si vedevano, pregavano insieme. E quindi qui dice Paolo io ringrazio Dio per tutti, per tutti voi, per la vostra fede, la vostra fede. Sappiamo che la fede è il dono di Dio, però sappiamo anche che il modo che noi rispondiamo a quella fede, il modo che noi viviamo in un modo ubbidiente al Signore è un impegno che prendiamo noi. e quando vediamo credenti che sono fedeli, sempre fedeli al Signore nelle scelte difficili, nei momenti difficili, nella malattia, quando vediamo credenti fedeli così è motivo di gioia perché è una testimonianza per tutti quanti. Noi nella nostra chiesa abbiamo la gioia, non vorrei metterla in difficoltà, però abbiamo la nostra sorella Vilema che veramente è un esempio di fede. La prima, primissima credente a far parte della nostra chiesa fedele in mezzo a molte difficoltà. Dio guarda alla fedeltà, non guarda chi è più bravo, chi fa questo, chi fa l'altro, Dio guarda alla fedeltà. Quando Lui dirà ben fatto mio fedele servitore, fedele servitore, fedele. Vi ringrazio Dio per la vostra fede. Poi in Romani 7,25 dice Paolo grazie e si è resa a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Di nuovo questo ringraziamento che Paolo fa al Padre è reso per mezzo di Gesù Cristo. Sappiamo che se non era per Gesù noi qui non ci saremmo insieme oggi. Solo per Gesù. solo per la sua grazia. Solo per Gesù. Possiamo guardarci in faccia e dire ti voglio bene. Sono contento che saremo insieme per l'eternità. Per Gesù che ci ha redento, che ci ha salvato. Per Gesù. Ma qui diciamo Gesù Cristo il Messia l'Unto nostro Signore nostro padrone. Se Gesù Cristo è il nostro padrone non abbiamo problemi nello stare insieme perché rispondiamo tutto a Lui. Ma se noi cominciamo a pensare di essere padroni noi stessi, se noi pensiamo di essere qualcuno che comanda, che decide, se noi pensiamo di avere questo potere sopra le altre persone, cominciamo a avere problemi. Ma noi possiamo ringraziare Dio per il messo di Gesù Cristo, nostro Signore, perché siamo uniti in Lui come il nostro Signore, il nostro padrone. Questo rende un matrimonio molto più bello, perché se il marito dice Gesù è il mio Signore e Gesù è il mio Signore, rende molto facili le scelte della vita. C'è una discussione cosa faremo, cosa faremo, io voglio fare così, no, io voglio fare così, cosa dice Dio, cosa dice Dio, non è che uno dice ma comando io, quindi si fa così, è vero che tu uomo sei responsabile, però andiamo alla parola di Dio, quando tra credenti c'è qualche discussione andiamo alla parola di Dio per vedere la risposta, perché Gesù è il nostro Signore, il nostro padrone è Lui, quindi noi i Suoi servi non ci mettiamo a discutere tra di noi per le cose, chiediamo a Lui, decide Lui. Poi Paolo ringrazia Dio per i credenti e per la grazia data loro in Cristo Gesù. Noi siamo stati tutti graziati. Non c'è nessuno che è più bello dell'altro. Siamo stati tutti graziati da Dio. Primo Corinti 1 4 5 dice Io ringrazio sempre il mio Dio per voi per la grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù perché in Lui siete stati arricchiti di ogni cosa di ogni dono di parola e di ogni conoscenza. Paolo sta scrivendo ad una chiesa come sappiamo tutti una chiesa che aveva diverse difficoltà infatti il motivo per cui Paolo si è sentito spinto di scrivere a questa lettera a loro era di correggere dei problemi ma una chiesa che cercava di vivere di evangelizzare in una città idolatra in una città dove l'immoralità faceva parte della religione in una città dove adoravano le statue in una città piena di idolatria e questa piccola chiesa cercava di andare avanti in questa realtà quindi avevano dei problemi ma Paolo scrive allora dice io ringrazio Dio sempre sempre per voi per la grazia di Dio che vi siete dati in Cristo Gesù io vorrei che pensassimo un momento come staremmo oggi se non fosse per la grazia della nostra vita noi ci vediamo in chiese tutti belli tutti ingravatati tutti belli ma riflettiamo di come eravamo prima di conoscere Gesù pensiamo come era il nostro matrimonio pensiamo come era la nostra vita privata pensiamo come era la nostra vita in contatto con le persone ma ci ricordiamo come stavamo ma grazie a Dio ci ha steso la sua grazia e Paolo sicuramente lui conosceva molti di questi creanti da prima della loro conversione perché aveva lui aiutato a fondare la chiesa lui si ricordava di quello e quando li guardava lui vedeva l'effetto della grazia di Dio nella loro vita una cosa che dico spesso in carcere quando parlo con i detenuti dico ricordate io non vi guardo come siete non vi guardo colpevoli di quello che avete fatto è chiaro nessuno oggi sta in carcere in Italia perché ha predicato il magello ci sono altri motivi io non vi guardo come siete vi guardo pensando di quello che potrete diventare per la grazia di Dio se Dio ha preso Saulo che ammazzava i cristiani e ha fatto di lui un apostolo un grandissimo uomo di Dio evangelista predicatore se Dio ha fatto quello con Saulo pensate di quello che Dio potrebbe fare nella tua vita se ti rendi a lui se chiedi la sua salvezza in lui in Cristo siete stati arricchiti di ogni cosa a noi non ci manca nulla abbiamo tutto abbiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno in Cristo Gesù siete stati arricchiti di ogni cosa di ogni dono di parola di ogni conoscenza sappiamo della chiesa di Corinto Dio ha benedetto in modo particolare in alcuni doni segni del primo secolo degli apostoli della chiesa ma Dio dà anche alla nostra chiesa credenti con dei doni con cui possono servire il Signore quindi Paolo ringraziava Dio per questi credenti pensando anche di come loro si impegnavano nel servizio del Signore nella chiesa io ogni volta che passo qui sabato pomeriggio e vedi quante persone ci stanno quante persone lavorano ringrazio Dio perché io posso vagamente ricordarmi dei momenti ma molti anni fa quando io e Rachele dovevamo andare a dare una pulizia alla chiesa certo era piccolo era grande così ma di vedere tante persone che Dio ha salvato tante persone che hanno dato un impegno di servirlo nella chiesa locale per me è una gioia immensa immensa Paolo dice ringrazio sempre il mio Dio per voi per la grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù perché in Lui siete stati arricchiti in ogni cosa di ogni dono di parola e di conoscenza ringrazio Dio per voi per quello che Dio sta facendo in voi e poi in Filippesi uno Paolo scrive sta in carcere non c'era la tv al colore non c'era la mensa non c'era allora l'aria che poteva andare fuori a giocare a calcio e lui scrive io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi e sempre in ogni mia preghiera per tutti voi prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino ora Paolo stava in carcere non aveva l'iPhone per leggere le ultime notizie se mangiava era per qualcuno perché qualcuno veniva e buttava giù qualcosa per lui di mangiare non aveva la doccia calda nemmeno fredda e aveva molto tempo di pensare e mentre lui pensava anzi che scendere nella depressione come molti di noi saremmo stati tentati di fare ma Dio ma perché mi ha fatto questo lui pensava dei suoi fratelli e ringraziava Dio per loro perché aveva dei ricordi belli questo è un auguro che faccio a tutti un augurio che faccio a tutti che quando pensiamo del passato cerchiamo di ricordare le cose belle cerchiamo di perdonare le cose cattive e di ricordarci delle cose belle sicuramente Paolo avrà avuto delle esperienze brutte infatti lo sappiamo si è ritrovati in mezzo a falsi fratelli una volta lui pensando di questi fratelli aveva dei pensieri belli dei ricordi belli ringraziava Dio per loro di tutto il ricordo diceva io ringrazio Dio che in cielo ci sarete anche voi ringrazio Dio perché vedo quello che Dio sta facendo nella vostra vita come io posso parlare e pensare oggi di voi tanti bei ricordi tanti bei ricordi momenti di di sofferenza di bisogno di malattia di dubbi di paura ma di ricordarmi come Dio ha operato in noi per la sua gloria paolo dice sempre 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 noi qualche volta lui dice sempre prego sempre per voi in ogni mia preghiera ogni volta che paolo pregava pregava per questi credenti pensate aveva un elenco di preghiera e pregava per loro pregava per i loro bisogni i loro bisogni rifletteva sul passato ma ha avuto un bel inizio a Filippi ha avuto dei problemi è stato picchiato è stato messo in carcere poteva morire nel terremoto sotto aveva avuto delle esperienze bruttissime ma lui si ricordava dei momenti belli con i credenti che lui aveva avuto il privilegio di portare a loro il Vangelo è un privilegio grandissimo di portare ad una persona il Vangelo e noi abbiamo veramente un privilegio grandissimo qui in Italia perché quando parliamo di Gesù molto spesso le persone non hanno mai letto la Bibbia non hanno l'idea di quello che c'è lì dentro così noi credenti riusciamo a dire a loro per la prima volta quelle belle storie della fede spiegando la grandezza di Dio e Paolo ha avuto questo privilegio con questi credenti a Filippi pregava per tutti loro tutti hanno quello no per tutti loro con gioia con gioia la nostra gioia non dipende sulle nostre circostanze Paolo stava in carcere e con gioia lui pregava per loro io penso che nelle nostre difficoltà certe volte è difficile pregare con gioia ma noi siamo chiamati come figli a pregare con gioia ringraziando Dio per quella persona quelle difficoltà che sta passando che Dio possa aiutarli che possiamo stare vicini ma di pregare con gioia perché anticipiamo quello che Dio potrà fare nel futuro perché come dice in secondo Corinzi 4 Paolo e poi Filippesi 4 6 quando parla della preghiera con ringraziamento quando preghiamo per queste persone che hanno difficoltà quando chiediamo a lui a Dio di benedirli già ringraziamo Dio anche se non lo vediamo già ringraziamo Dio per quello che lui vorrà fare nella loro vita poi in Primo Testo Onicesi 2 13 Paolo parla di questi credenti e dice per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio voi l'accettaste non come parola di uomini ma quale essa è veramente come parola di Dio la quale opera efficacemente in voi che credete un motivo per ringraziamento che Paolo aveva per questi credenti era che sin dal primo momento quando lui aveva portato a loro la parola erano pronti ad affrontare la persecuzione erano pronti ad affrontare qualsiasi difficoltà perché credevano che quella parola che lui portava era proprio la parola di Dio era quella che poteva cambiare la loro vita riflettevo oggi sugli anni sulle persone che hanno ascoltato chi ha creduto chi non ha creduto chi è stato fedele chi non è stato fedele e vi garantisco se in questi anni erano presenti qui dentro tutte le persone che sono passate per di qua erano quattro volte più grandi la chiesa Paolo non graziava a Dio perché quando loro avevano ricevuto la parola l'avevano capito l'avevano creduto avevano capito che era veramente la parola di Dio che Dio dava per mezzo di Paolo a loro il miracolo della nuova nascita è sempre un miracolo quando Dio prende la sua parola anche pronunciata da un servo molto scarso Dio prende la sua parola e cambia la vita quel servo non può mai dire quanto sono stato bravo io per niente perché non sono le nostre parole che cambiano la vita se tu convinci una persona di seguire Gesù perché sei così bravo nell'esporre tutto quanto ti garantisco che Satana manderà qualcun altro più bravo di te di esporre la bugia e quella persona seguirà anche loro cantandoti proprio dove stai però invece se tu esponi la parola di Dio e lasci a Dio di operare nel cuore a Dio di cambiare quel cuore quella persona che nasce veramente di nuovo andrà avanti sarà fedele ringrazio Dio per voi perché quando avete ricevuto la parola quando avete ascoltato la parola avete detto sì questa è la parola di cui avevo bisogno non perché veniva una persona o un'altra ma perché lo Spirito Dio ti toccava il cuore in quel momento facendoti capire la verità che stavi sentendo forse per la prima volta quindi ringraziava Dio per il modo in cui avevano ricevuto il messaggio qui parla della predicazione ma ci sono molti modi in cui possiamo predicare la parola predicare vuol dire annunciare annunciare ma noi annunciamo il Vangelo ogni giorno nella nostra vita come credenti avete mai pensato che forse l'unica Bibbia che tuo marito che tuo vicino che tuo amico amica tuo compagno di lavoro tuo compagno di classe forse l'unica Bibbia che quella persona leggerà mai è la Bibbia che loro vedono nella tua vita loro vedono come tu vivi purtroppo quello che ha rovinato la piazza per la chiesa evangelica è di avere tanti credenti che si chiamano evangelici ma non vivono le viti di Gesù e non obbediscono la parola di Dio pur vantandosi di quella parola evangelica noi dobbiamo vivere quello che noi crediamo e qui Paolo dice voi avete ricevuto questo messaggio l'avete fatto parte di voi questa predicazione che avete sentito certo se Paolo predicava e poi in mezzo al carcere bestemmiava non posso immaginarlo la sua predica non valeva nulla e poi Paolo ringraziavi Dio per l'autorità con cui queste persone avevano ricevuto il messaggio hanno capito che era la parola di Dio la parola di Dio ripeto non sono le nostre parole è importante che siamo preparati che sappiamo come spiegare il Vangelo però non sono le nostre parole è la parola di Dio è importante che viene riconosciuto come quella poi Paolo dice che lui ringraziava Dio per i credenti e la crescita della loro fede e del loro amore primo testo unicesi 1 3 a 4 noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi fratelli come giusto perché la vostra fede cresce in modo eccellente e l'amore di ciascuno di voi tutti per gli altri abbonda sempre di più in modo che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio a motivo della vostra costanza e fede in tutte le vostre persecuzioni e nelle afflizioni che sopportate Paolo ringraziava Dio per loro perché la loro fede cresceva vedeva le sue fatiche non erano in vano le sue fatiche avevano prodotto qualcosa per la grazia di Dio di vera che cresceva in loro quanto è quanto è brutto lavorare e non vedere nulla mi ricordo poi vedremo dopo mi ricordo quando abbiamo piantato il prato mese di maggio hanno detto ma non è possibile però Dio ci ha dato l'acqua e abbiamo visto dopo giorni che non vedevamo nulla abbiamo visto un manto di verde proprio che c'era crescere quanto è stato bello dopo tante fatiche non dico che mi fa male per le ore che ho lavorato quando uno lavora sodo e non vede risultati e scoraggiante non vuol dire che dobbiamo smettere abbiamo l'esempio di Gesù dopo tre anni e mezzo di pregazione di pranzi di miracoli guarigioni è rimasto quasi da solo sulla croce quasi da solo nemmeno i suoi discepoli tranne Giovanni stavano con lui quindi noi non ci dobbiamo lamentare se noi lavoriamo tanto e alla fine ci rimane poco quindi ringraziava Dio per la fede che cresceva ringraziava Dio dice perché il loro amore l'uno per l'altro abbonda sempre di più l'amore tra cristiani credenti crescerà sempre genitori quanto è brutto quando vedete i figli che non vanno d'accordo che litigano tra di loro genitori cioè figli quanto è brutto quando vedete i genitori che non vanno d'accordo che litigano tra di loro vi posso dire come pastore è bruttissimo quando vedi vedo fratelli in Cristo che litigano che non vanno d'accordo che non stanno pregando l'uno per l'altro che non stanno salutandosi con amore con gioia sono contento che stai qui oggi in chiesa e sono felici che saremo insieme per l'eternità quando non vedo questo sto male Paolo qui ringraziava Dio per il loro amore che cresceva vedeva l'amore di questi fratelli insieme che crescevano per la gloria di Dio perché? perché lui poteva gloriarsi della loro costanza di fede tu dici ma era orgoglioso Paolo perché voleva gloriarsi di loro ma penso che faceva piacere quando lui parlava con qualche fratello ha visto quei fratelli lì a Filippi come vanno bene come vanno avanti che gioia ma Dio ha fatto la stessa cosa Dio ha detto Satana hai visto mio servo Giobbe con te fedele e ha detto permesso a Giobbe di provare Giobbe Paolo trovava gioia e ringraziava Dio per questa gioia che lui aveva di vedere dei suoi figli nella fede che crescevano nella fede e nell'amore siamo salvati per la grazia di Dio riceviamo questi doni di fede facciamo quel primissimo passo di fede quando chiediamo Gesù di perdonarci e dopo tutta la vita cristiana è un camminare per fede un passo dopo l'altro e ogni prova fa solo una cosa ci prepara per la prossima che cresciamo nella fede e questa è una gioia quando Paolo vede che questi credi crescono primo Timotio 1.12 Paolo ancora sta in carcere primo Timotio 1.12 dice io ringrazio colui che mi ha reso forte Cristo Gesù nostro Signore per avermi stiamato degno della sua fiducia ponendo al servizio me e poi va avanti a parlare di com'era lui prima di conoscere Gesù ringrazio Dio che mi ha scelto vi posso ammettere che qualche volta negli anni ho detto Signore ma perché proprio a me mi ha mandato qua perché Paolo ringraziava Dio di aver scelto e non tutti sono chiamati a servire il Signore a pieno tempo non tutti la maggior parte no la maggior parte è chiamata a servirlo nel lavoro dove sta facendo testimonianze è importantissimo però qualcuno nella storia della Chiesa viene chiamata a dedicarsi totalmente alla parola di Dio e non è sempre facile e non è sempre facile e qui Paolo dice io ringrazio Dio di avermi stimato degno non che ero degno lui sapeva non essere stato degno ma che Dio mi ha scelto di servirlo in questo modo la grazia di Dio è superiore ad ogni nostro errore ogni nostro peccato quando chiediamo perdono e nasciamo di nuovo e andiamo avanti per fede poi Paolo ringraziava Dio per i credenti il secondo Timotio questo testamento l'ultima lettera di Paolo prima di morire capitolo 1 versetto 13 ringrazio Dio che servo come già i miei antenati con pura coscienza ricordandomi regolarmente di te nelle mie preghiere giorno e notte Paolo pregava per Timotio come noi dobbiamo pregare l'uno per l'altro Paolo non immaginava come avrebbe finito Timotio la sua vita abbiamo sentito quella domenica della riforma che Timotio il pastore della chiesa di Efeso è morto a 94 anni bastonato a morte perché ha avuto il coraggio di mettersi davanti a una processione di idoli dicendo ma che fate questi idoli non vi possono parlare sentire vedere rispondere e voi portate questi bucciotti in giro è stato bastonato a morte Timotio Paolo non sapeva di questo quando scriveva diceva solo che io mi ricordo di te regolarmente nelle preghiere che lui sapeva che il ministero lì ad Efeso era difficile molto difficile così pregava per Timotio e io vi pregherei di pregare anche per me il ministero non è facile se fosse facile tutti lo farebbero non è facile però che Dio possa dare sapienza e forza di andare avanti infine Paolo ringraziava Dio per i credenti e la loro testimonianza di nuovo ripeto la testimonianza del loro amore e della loro fede questo tema va visto più volte Filemone anche ha un uomo un fratello un credente Paolo scrive io ringrazio continuamente il mio Dio ricordandomi di te nelle mie preghiere perché sento parlare dell'amore e della fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi Paolo poi doveva chiedere una cosa grandissima a Filemone questo ricco padrone doveva chiedere a lui di riaccogliere di perdonare un suo schiavo che era scappato via rubando anche delle cose però prima di arrivare a quello dice io ringrazio Dio per te e prego per te perché sento del tuo amore quanto è bello quando sentiamo qualcosa di bella quando riguarda una persona di solito ah vero e vogliamo sentire le cose più brutte delle persone che non fanno mai notizie le cose belle sono cose brutte Paolo invece io ringrazio Dio perché sento cose belle di te quelle che stai facendo per il Signore e la mia testimonianza è anche questa spero che cresca sempre di più che quando vado in giro quando parlo delle persone sento di voi della vostra testimonianza di qualcuno di voi che prima che arrivo io c'era già stato col Vangelo bellissimo ah sì ti ho parlato ah sì bellissimo Paolo ringraziava Dio per questo aveva sentito parlare della fede e dell'amore di Filemono come anche per me è una gioia immensa quando porto ah ma io ho già avuto il calendario di quelle nelle tue chiese bellissimo la gioia che noi abbiamo di collaborare insieme e Paolo dice qui io sono ringrazio Dio perché sento parlare della vostra fede e del vostro amore nel Signore e l'amore che voi avete verso tutti i santi la fede in Dio fede vera produrrà per forza l'amore per i fratelli se non mi credete leggete la prima lettera di Giovanni se io non amo i fratelli non conosco Dio è chiaro è chiaro Paolo lodava Dio per Filemono perché il suo amore e la sua fede era qualcosa riconosciuto da tutti io vorrei che anche nella nostra chiesa la nostra fede nel Signore e il nostro amore l'uno per l'altro fosse così forte che tutti ne parlerebbero sarebbe una cosa bellissima e speriamo di andare avanti sempre così se Dio vuole ringraziamo Dio io ringrazio Dio con l'opposto l'opposto Paolo e ringrazio Dio per tutti voi e ringrazio